Ed eccoci al cartodromo, schindola, ciocchini. Perfetto, perfetto. Non succede niente, non si fa male a nessuno, tranquilla, qualche cosa, dai faccio un commento. Sono stato chiaro, fantastico, commento, sono appena svegliato, concalmaci, è tutto molto bello, è tutto molto bello, grazie a voi, ma tutto per me con dei 5 minuti. Andrea, va a fare un uomo, e l'ho già detto io, e l'abbiamo detto insieme. Che ragazzo sei io? Che ragazzo serio? No, guarda in camera, non guardare me. No, la sei bello tu. Fantastico. Commento? No, è super erro. Vai! Forno, non è di questo, non è di questo, non è di questo. Ok, vai! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.